buonasera questo è il momento in cui chi streamma seriamente inserisce la sigla degli elementi di intrattenimento durante l'attesa io invece vi lascio ai miei silenzi inquadrature di me che bevo l'acqua queste sono questo è quello che offre il convento buonasera bimbi come state? ancora non c'è nessuno quindi sto parlando da sola ma fatemi come sempre sapere se fatemi sempre sapere se si sente o si vede c'è qualche problema nell'eloquio oggi direi bene dato che ci aspetta una chiacchierata lunghissima chissà quando finiremo e se finiremo come vedete dal titolo caterva di libri oggi parliamo di tantissimi libri di cui mi ero completamente dimenticata che sono arrivati fra il salone del libro e un ordine di braccio che appunto era quello che vi dicevo di cui mi ero dimenticata molto bene perfetto si vede si sente ottimo siete pronti siete carichi su alcuni ovviamente andrò velocemente anche perché ve l'ho già fatti vedere in lungo e in largo ho fatto un vlog infatti l'esperienza del salone del libro per cui procederemo velocemente io vi parlerò giusto di alcune cose qui francamente sono stupita della mia lungimiranza perché ho fatto dei grandi recuperi se vi ricordate perché qua parlo qua soprattutto ai veterani ecco che sono presenti dalla prima ora no mamma no mamma non puoi chiamarmi in questo momento perché perché sono in live le mamme che non conoscono la programmazione di twitch mannaggia devo avvisarla devo avvisare anche lei non devo fare solo spam e sui social ma devo avvisare anche mia madre quando faccio le live allora dicevo qualche chi è un veterano delle live sa che a un certo punto abbiamo anche parlato del fatto che il libraccio si è messo a fare una scontistica allucinante in particolare del 60% sui suoi titoli usati quindi già erano titoli usati che costavano poco in più erano al 60% non potevo esimermi in realtà ho resistito a lungo e poi non so che cosa è successo perché io sinceramente mi ricordo di aver resistito ed evidentemente c'è stato un giorno una notte nottetempo ho fatto un ordine a mia insaputa come Brunetta che c'aveva la casa no non era Brunetta vabbè c'era qualcuno di qualche politico italiano che aveva l'appartamento a sua insaputa ecco più o meno io con i libri tra l'altro ragazzi sono completamente rincoglionita persino al salone sono riuscita a prendere due libri uguali cioè vi rendete conto tra l'altro non è neanche un libro per cui ti puoi sbagliare cioè io in realtà al salone ho comprato il libro di antropologia di Kim Ingold e per poi scoprire a casa che io in realtà questo libro l'avevo già comprato mesi fa amnesia sì forse sei gentile ad usare questa parola io ne avrei usato un'altra comunque allora da cosa volete iniziare facciamo prima l'ordine di braccio o prima i libri che ho preso al salone e non vi ho fatto ancora vedere scrivetelo in chat in teoria da qualche parte dovremmo riuscire anche a fare i sondaggi ma io non sono ancora arrivata a quel livello di Twitch ci arriverò ma non sono ancora a quel livello grazie mille sì questo ormai è il mio colore insieme al blu io fucsia e blu sto morendo di caldo infatti a un certo punto aprirò la finestra vabbè se tutti volete vedere i braccio vi conosco ormai troppo bene troppo bene a chi sarà destinata la seconda copia di antropologia devo ancora decidere devo ancora decidere mi sembra un peccato darla alla biblioteca di condominio che io nutro da tanto tempo da tanti anni ormai quindi credo che insomma vedrò cosa farci non ho ancora deciso non ho ancora deciso lo decideremo allora iniziamo dal libraccio poi scalando andiamo su alcune novità di cui sono particolarmente felice e che ho ordinato tra virgolette al salone del libro e poi mi sono state recapitate dalle case editrici a casa perché c'è anche il servizio Pony Express per chi non riesce a caricarsi troppo di libri allora dici vabbè poi me lo mandi poi me lo mandi io come le ricche signore dell'ottocento che ovviamente non potevano trasportare i sacchetti e quindi facevano le commissioni semplicemente ordinando e poi qualche facchino io lo portavo a casa ecco io io come loro no scherzo ovviamente è capitato credibile che io debba anche spiegare che era una battuta allora iniziamo però appunto con l'ordine di braccio e poi parliamo di queste cose allora alcune edizioni chiaramente non sono bellissime ok ma lo sappiamo perché con l'ibraccio funziona così non sai mai quello che ti capita è un po' a fortuna a sentimento è un po' così non non lo sai non lo sai è il brivido della follia no è il brivido della follia degli ordini di braccio tra l'altro la cosa che mi fa ridere ragazzi che ne abbiamo parlato anche un po' su Instagram con alcuni di voi nei messaggi privati è che con l'ibraccio sai cioè dai quasi per certo dai per scontato che qualche libro non ti arriverà quindi io ho esagerato apposta perché ho detto dai sicuro tanto poi di questi che ordinano una decina non arriveranno sono arrivati tutti secondo me quando superi una certa soglia te li danno per forza ecco non te li tolgono dal carrello ci si sentono moralmente obbligati a mandarteli tutti altrimenti non si spiega cioè per una volta che potevate toglierli senza fare danno non li avete tolti ok mi sono arrivati tutti questa penso che sia la prima volta nella storia che mi arrivano tutti i libri dal sito del libraccio incredibile perché non ti arrivano a me sono sempre arrivati tutti perché l'avanguardia dell'e-commerce del libraccio ma io penso che anche altri funzionino così perché in realtà a Umma Umma sono sempre gli stessi i stessi player di mercato quindi i BS di braccio il trinelli fanno parte dello stesso gruppo comunque praticamente loro si riforniscono dalle librerie quindi spesso magari a catalogo gli risulta e quindi tu lo puoi comprare poi quando devono reperirlo fisicamente cioè devono andarlo a prendere dalle queste librerie che glielo spedisco logisticamente non lo so comunque insomma quando poi devono andarlo a prendere proprio fisicamente si accorgono che non ce l'hanno e quindi ti arriva la mail dicendo siamo spiacenti siamo desolati però anziché migliorare il nostro database continueremo anziché migliorare il sistema di catalogazione continueremo a mandarti queste mail di scuse e a appunto mandarti soltanto uno su tre libri che hai comprato più o meno è così e poi ovviamente si può avere fortuna dipende anche quello che compri perché magari se compri un libro famosissimo molto comune non ci sono problemi però se compri magari l'edizione del 1473 con con quella copertina lì precisa e magari non non sempre non sempre ce l'hanno però comunque è santo sempre sia di braccio per cui non ci lamentiamo troppo perché per carità per carità un bottino del genere senza i di braccio non ce l'avrei mai avuto allora cominciamo da la fiction dai sì che tanto siete qui per vedere la fiction poi vi farò vedere anche un po' di saggi che ho preso di studio perché io sono una secchiona e voglio continuare a studiare nella mia vita anche se ho passato i 30 ho 30 anni ma io continuerò a studiare probabilmente per il resto della mia vita e quindi ho comprato altri libri universitari visto che tra gli sconti c'erano anche i testi universitari che di solito sono anche molto costosi quindi ne ho approfittato e ho preso e ho preso un po' di racconti un po' di romanzi e anche un po' di saggi del mulino in particolare il mulino casa editrice del cuore per chi ha studiato lettere ma non solo però per le materie umanistiche è sempre molto cara allora da cosa vogliamo iniziare non so c'è solo l'imbarazzo della scelta dai iniziamo da Thomas Mann di cui abbiamo già parlato recentemente perché appunto avendo riletto recentemente i Woodenbrock ho fatto anche una masterclass sul romanzo familiare e ho parlato solo praticamente chi c'era della masterclass sa che ho parlato praticamente un'ora soltanto dei Woodenbrock che è uno dei miei libri preferiti e l'ho riletto recentemente proprio per arrivare preparata alla masterclass ecco allora memore del fatto che io i libri di Thomas Mann ce li ho tutti sparpagliati nel senso che un po' sono in Sicilia un altro po' sono qui ma non ce l'ho tutti ecco mi manca qualcosa e ho approfittato del fatto che questo libro costasse due euro o forse anche di meno mi pare di ricordare due euro questa edizione vecchissima degli Oscar Mondadori che racchiude La morte a Venezia Tristan e Antonio Kroger la buona notizia è che io questi libri li ho già letti tutti e tre quindi è semplicemente per averlo in libreria perché Thomas Mann so già che è un autore su cui tornerò e quindi mi fa comodo averlo in libreria da consultazione tra l'altro poi questi sono tre romanzi brevi tant'è vero che pur essendo tre libri in uno in realtà non è tanto spesso ecco questo libro non ha una molle gigantesca proprio perché sono libri brevissimi sono tre capolavori e non escludo assolutamente la possibilità che io possa rileggerli anche così a caso esattamente come ho fatto con mille altre mie riletture perché io per chi non lo sapesse rileggo parecchio ecco tendenzialmente cerco di leggere sempre cose nuove però capita spesso che così vado a rileggermi così pescando dalla libreria e su questo voglio dire una cosa metto le mani avanti perché probabilmente mi sto giustificando sul fatto che ho comprato anche i libri che ho già letto e comunque ho fatto dei recuperi di grandi classici però quello che voglio dirvi è questo che la libreria per me è importante cioè non sono una collezionista però per me è importante avere i libri fisicamente perché quando sto scrivendo qualcosa quando sto pensando quando sto leggendo mi piace dare uno sguardo alla mia libreria perché guardando fisicamente i libri è come se si aprisse una mappa mentale nel mio cervello e vi assicuro che è molto importante per chi insomma fa questo lavoro per chi studia per chi scrive di libri in generale o comunque per chi è molto appassionato è importante andare ogni tanto a pescare dalla propria libreria aprire un libro che si ha già letto e leggere per ricordare cioè secondo me è molto importante soprattutto per quelle persone che dicono io non mi ricordo mai i libri che leggo eccetera eccetera fidatevi che il libro fisico a volte può aiutare ma anche solo vedere quel titolo lì aiuta a risvegliare la memoria non vale per tutti gli autori naturalmente non vale per tutti i libri però magari i fondamentali secondo me è importante averli e benissimo quindi questo è il primo recuperone che ho fatto costava 2 euro dopodiché mi sono un po' lasciata tentare da questi classici classici poi fino a un certo punto perché stiamo parlando comunque del novecento ecco non è che non ho preso libri particolarmente in lacco gli anni inizio novecento ormai abituata con i mattoni che sono tutti del settecento dell'ottocento eccetera io considero il novecento l'avanguardia quindi ho recuperato e poi mi fermo faccio una piccola cosa per leggere anche i vostri commenti ho recuperato anche Cherie di Colette che è una scrittrice che ho sempre dato per scontato una scrittrice francese che è uno di quei titoli che io vedo sempre dappertutto lei ha scritto abbastanza anche tra l'altro sotto pseudonimo non vorrei dire cavolate ma diciamo che aveva sì aveva la tutela del marito per cui spesso si firmò in maniera diversa comunque a Delphi come al solito grandi recuperi di questi autori di cui pubblica quasi sempre tutto quello che hanno scritto lei in particolare è considerata appunto una delle autrici più importanti del novecento ma io non ho letto niente perché l'ho sempre considerata appunto non vorrei non dico mainstream perché sarebbe assurdo pensare che Colette sia una scrittrice mainstream però non so come dirvi sono quei libri che vedete dappertutto e quando vedete qualcosa dappertutto specialmente all'usato tendete a sottovalutarlo cioè almeno io tendo a sottovalutarlo a dire che se è troppo in giro significa che non è bellissimo ecco uno di quei libri che si devono leggere per forza e quindi li eviti ecco ho sempre pensato così però secondo me è un pregiudizio ecco infatti me lo state dimostrando perché anche in chat avete detto che state dicendo che è bellissimo quindi in realtà ho fatto male ad avere questo piccolo pregiudizio tutti noi lettori abbiamo questi pregiudizi a volte senza senso però ognuno cioè ci sta il fatto che leggiamo solo libri che ci chiamino ok che ci ispirino cioè quindi è ovvio che noi tutti abbiamo delle sensazioni sui libri e sugli autori sulle autrici per cui non è che mi sto facendo una croce però semplicemente siccome costava pochissimo ed è nuovo cioè sono felice perché questa edizione è praticamente impeccabile ho detto perché no insieme a un'altra scrittrice che invece io ho snobbato sempre non dico con consapevolezza però con la volontà proprio di tenermi alla larga perché ho un ricordo non dico brutto però poco piacevole di un suo libro che provai a leggere quando avevo veramente 14 anni 15 anni stiamo parlando di Doris Lessing allora io ho preso all'usato che infatti è un po' l'edizione abbastanza distrutta tra l'altro tutti i libri sono arrivati in uno stato di sporcizia devastante ce l'ho dovuto proprio pulire con le salviettine igienizzanti sgrassanti di tutto ho passato mancava solo il napalm e poi ho provato di tutto adesso voi vedete la copertina bianca ma non era bianca quando è arrivata vi dico solo questo comunque il diario di Jane Somers che tra l'altro lei non non scrisse cioè non pubblicò per la prima volta col nome di Doris Lessing ma con un altro con uno pseudonimo ed ecco perché fu inizialmente snobbato dalla critica per poi invece diventare un grande classico anche qui del novecento però qua stiamo parlando della seconda metà del novecento cioè mentre Colette è una scrittrice proprio degli anni venti se non sbaglio invece Doris Lessing stiamo parlando seconda metà del novecento proprio inoltrata tra l'altro lei ha avuto una vita allucinante cioè è nata in Iran però è dello Zimbabwe di origine britannica una vita assurda per certi aspetti non lo so leggendo la sua biografia l'ho associata anche un po' alla notomba anche lei abbastanza movimentata con il padre con una carriera molto particolare eccetera comunque non voglio tediarvi con le mie associazioni mentali casuali volevo semplicemente dirvi che io con Doris Lessing ho avuto una brutta esperienza perché provai a leggere il taccuino d'oro in adolescenza e non riuscì a capirci nulla cioè proprio tramortita dalle parole noiosissimo però sicuramente non avevo minimamente la consapevolezza che ho oggi sia per quanto riguarda la scrittura la letteratura ma soprattutto per i temi sociali perché io ovviamente ero una selvaggia a 14 anni non me ne fregava niente di niente e invece Doris Lessing è proprio una scrittrice che si concentra molto sulla denuncia di temi sociali forti una scrittrice anche un po' provocatoria cioè insomma ha molto a che fare con la storia per cui se non hai la minima consapevolezza del mondo che ti circonda come avevo io a 14 anni anzi come non avevo io a 14 anni è ovvio che magari è un po' rispingente per cui voglio ritornare sui miei passi e provare a leggere Doris Lessing un po' influenzata dal fatto che ho visto che c'è stato un gruppo di lettura non mi ricordo di chi però stiamo parlando di settimane fa qualcuno su internet stava provando a rileggere il taccuino d'oro illuminazione fasti eccetera eccetera festeggiamenti universali quindi ho detto va bene ok magari ci riprovo con Doris e questo è il risultato stesso discorso quindi recupero di autrici perché ho sempre un pochino snobbato rinascimento privato di Maria Bellonci lei è considerata insieme a Anna Banti no scusate l'ho sempre associata ad Anna Banti perché mi ricordo che ne parlò molto Paolo Cognetti e io da quel giorno che senti Paolo Cognetti parlare di questi due scrittrici ah no tre scrittrici perché c'è anche l'alla romano quindi dal momento in cui mi feci questo appunto mentale poi mi sono rimaste qui mi è rimasto un po' un chiodo fisso e niente però alla fine io quando si parla di letteratura italiana non so perché sapete che io ho un po' questo questo amore per la narrativa straniera per cui l'Italia sì assolutamente leggo tanta letteratura italiana ma non così tanta ecco non faccio mai questo scavo questo lavoro di approfondimento particolare quindi capita che mi lascio sfuggire delle occasioni ecco in particolare guardando un po' al passato effettivamente Maria Bellonci lei scrive dei romanzi storici ecco lei potrebbe fare assolutamente cioè potrebbe piacermi parecchio anche qui edizione intatta perfetta sporchissima all'epoca in cui all'epoca quando mi è arrivata qualche giorno fa e invece l'edizione è veramente senza un graffio particolarità che mi ha colpito allora di cosa parla rinascimento privato la storia di Isabella Deste tra 400 e 500 nel momento in cui si sposa con Francesco Gonzaga a 16 anni quindi da da quando lei ha 16 anni raccontata in prima persona se non sbaglio o comunque dal suo punto di vista dai 16 anni fino all'età matura fino ai 60 anni vedo che in chat l'ha apprezzata adesso giuro che mi fermo e leggo i vostri commenti perché vi vedo belli coinvolti questa live per cui mi fa molto piacere comunque dicevo la cosa che mi ha fatto sorridere quando mi è arrivato è che ho letto nel retro sul retro ho letto questo per quanto non si tratta di una semplice per quanto raffinata biografia ma di un vero e proprio romanzo sia per la presenza di alcuni personaggi totalmente inventati sia soprattutto per la qualità della scrittura che sembra avvolgere in una sorta di abbagliante pulviscolo ogni figura e ogni fatto storico mi ha fatto riflettere mi ha fatto sorridere perché oggi noi facciamo esattamente il contrario cioè mentre questo libro che è uscito nel voglio dirvi la data corretta nel 1985 quindi mentre nel 1985 si puntava proprio sul romanzo quindi viene detto allora è la storia vera cioè è qualcosa di storico si basa su fatti storici ovviamente accaduti ma è un romanzo è un romanzo oggi invece torniamo a fare tutto l'opposto cioè oggi qualsiasi libro se non è diciamo mescolato alla non fiction se non c'è qualche intenzione storiografica documentaristica archivistica diaristica eccetera eccetera non trovendono praticamente invece nel 1985 ancora il romanzo aveva una sua forza intrinseca diceva sì vi stiamo raccontando la storia ma sotto forma di romanzo non dimentichiamo niente mi ha fatto ridere questa cosa ok per quanto riguarda la fiction no col cavolo non ho finito per niente tutti questi libri comunque sono costati veramente dai 2 ai 3 euro i saggi mi sono costati di più ma che vi devo dire la follia in me finisco con la fiction poi mi fermo e leggo i vostri commenti lo giuro allora altro recupero che volevo fare è la caduta dei golden di Salman Rushdie recentemente ho comprato anche i versi satanici su Vinted tutto usato sempre usato ormai ultimamente l'ho preso unicamente per un motivo perché appunto sto cercando di fare un lavoro sui romanzi familiari sia per la masterclass sia per farci poi un approfondimento in futuro eccetera quindi essendo questo un romanzo familiare su appunto la caduta di una famiglia la caduta dei golden e interessandomi moltissimo alla questione di decadenza delle famiglie vedi i Wooden Rock di Thomas Mann il cui sottotitolo è proprio la decadenza di una famiglia interessandomi in generale di come si è evoluta la narrazione familiare dal classico dal classico romanzo genealogico ad oggi quindi anche in altri media non soltanto in letteratura allora ho pensato di riprendere anche questo titolo di Salman Rush visto che lui è proprio un maestro della contaminazione e soprattutto è un maestro della modernità perché lui ha un modo di scrivere completamente diverso rispetto ai classici in particolare dal punto di vista linguistico fa veramente un meraviglioso e raffinatissimo pastisce cioè riprende tantissimi gerghi lingue diverse perché lui comunque è indiano ma scrive in inglese in questa in questo diciamo in questa commissione linguistica che è stata definita chutney come la salsa chutney che dentro un po' un miscuglio di roba ecco quindi volevo insomma un romanzo familiare però scritto come lo scriverebbe Salman Rushdie e la caduta di Golden è doveroso prenderlo poi anche qui non è costato nulla quindi sì anche la copertina è bellissima ah Marco mi conferma tra l'altro Marco vergognati perché per colpa te ho preso altri libri veramente non so cosa devo fare cioè vi devo smettere di seguire vi devo smettere di seguire io nel frattempo sto sudando come una marta non so perché di solito ho sempre freddo vabbè perdonatemi per fortuna che su Twitch non si vede niente perché le mie postazioni delle live sono sempre improvvisatissime per cui non mi vedete mai particolarmente bene allora ripeto continuiamo con la fiction ho preso un po' di cose devo dire a volte alcune cose completamente casuali però per il discorso che ci siamo detti prima Ada o Ardore di Nabokov allora questo libro è particolarissimo perché anche qui ci si tratta di una sorta di racconto familiare ma in realtà ambientato in un'antiterra vabbè Nabokov ragazzi io spero che voi lo conosciate come autore lo sapete che è pazzo e geniale quindi non c'è bisogno che io insomma spieghi perché e come lui si è arrivato a scrivere un romanzo di questo tipo l'antiterra sarebbe una terra parallela un mondo parallelo in cui la Russia in realtà ha fatto il giro ed è praticamente si estende sul Canada praticamente verso il Canada quindi ha fatto proprio il giro della terra e vabbè ma lui è pazzo cioè è completamente pazzo io lo amo su Nabokov ho fatto anche un pezzo di tesi di laurea su In vita a una decapitazione che è un romanzo distopico bellissimo poi con Nabokov bisogna sempre diciamo prendere con le pinze le definizioni di genere perché per esempio In vita a una decapitazione non è tanto un distopico nel senso canonico del termine ma è più un romanzo satirico surreale cioè proprio altri concetti quando si parla di lui perché lui declina i generi sulla sulla sua penna cioè sulla sua autorialità quindi non è lui che si adegua al genere è il genere che si adegua alla sua scrittura e allora tra l'altro questo veramente un colpo di fortuna totale perché non mi aspettavo l'edizione nuova mi aspettavo quella vecchia e invece è arrivato questo immacolato incredibile e poi ho preso un altro scrittore questo lo voglio portare lo voglio leggere quest'estate perché quest'estate andrò a Chicago e questo libro è ambientato a Chicago ed è mi è stato sempre venduto come molto vicino al grande Gatsby anche questo parla di gioventù ricca e bruciata dopo la grande guerra dopo l'esperienza della grande guerra quindi più o meno come tempisti che ci siamo da parte di questo scrittore britannico si buona no si no vabbè britannico se non sbaglio non vorrei dire cavolato ma mi sembra proprio di sì ed è un autore molto 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 prolifico è sempre stato etichettato un po' come snob vabbè un po' per la scelta dei temi e per la scelta dei soggetti dei suoi romanzi appunto sempre gioventù ricca e un po' anche per il suo modo di scrivere molto raffinato molto alto molto molto colto molto al di sopra diciamo di nostri comuni mortali anche qui avevo solo un imbarazzo della scelta diciamo perché erano tanti i titoli di solito lui si trova molto all'usato e in particolare in questa promozione c'erano tanti i titoli suoi ho preferito prendere il filo del rasoio anche qui culo pazzesco perché l'edizione è perfetta semplicemente perché appunto essendo ambientato a Chicago e volendo io conoscere un po' meglio questa città dal punto di vista letterario perché ragazzi io a letteratura americana leggo sempre New York cioè ogni tanto ci sta andare in altre città ecco non credo che si discosti moltissimissimo però insomma ci sta anche esplorare perché o è metropoli New York o è Los Angeles più raramente per i miei gusti letterari più che altri perché sono East Coast musicalmente West Coast ma a livello letterario East Coast oppure è campagna ok quindi di solito la letteratura americana è così o centri ma veramente centri 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 o periferia totale quindi periferia come si dice rurale americana ok vabbè poi costavano boh pochissimo ho preso anche a proposito di letteratura americana un raccontino di Villa Cater una signora perduta io già di suo avevo letto qualcos'altro non mi ricordo lei scrive racconti brevi quindi difficilmente mi ricordo i titoli ma mi ricordo le atmosfere lei è una scrittrice veramente pazzesca mi spiace che non so se è lei da aver scritto poco o in generale in Italia non è stata pubblicata tanto comunque è considerata una delle scrittrici americane più importanti del novecento anche qui si tratta di primo novecento quindi anni venti insieme a non mi ricordo come si chiama però Dorothy Parker ecco io loro due le associo molto e anche Dorothy Parker scrittrice di racconti ho finito con la fiction e me ne mancano solo due e poi leggo i vostri commenti e poi ci ritorniamo sui saggi allora per la fiction ho semplicemente recuperato un mattone russo che l'anno scorso non siamo riusciti a leggere mi dispiace tantissimo perché è considerato vabbè Piyushkin io non lo amo particolarmente però questo è considerato e lui è considerato uno dei padri anzi il padre della letteratura russa per come la conosciamo cioè per come diciamo conosciamo la letteratura classica russa quella dell'ottocento questo ho scritto un pochino prima fine settecento è un romanzo in versi quindi avanguardia pura per l'epoca perché la letteratura russa comunque come tutte le letterature ancora nel settecento era un po' legata ai filoni più tradizionali quindi in questo caso ai versi ai poemi e qui invece c'è un salto diciamo un passo verso il romanzo che poi è stata la forma principale che pian piano si è imposta e su cui poi si sono modellati tutti gli scrittori e gli autori che sono venuti dopo quindi un po' mi dispiaceva che non fossimo riusciti a leggerlo per il programma dei mattoni russi e quindi l'ho recuperato questa dovrebbe essere la traduzione più recente anche più lavorata di Ettore Logatto e ha questa edizione che apprezzo molto perché di Quodlibet di solito sono molto attenti su questo perché c'è il come si dice cioè è rispettata ecco ce l'ho fatta è rispettata la metrica non c'è il testo a fronte ma ovviamente per me il testo a fronte sul russo è veramente particolarmente inutile nel senso che io non conosco veramente una parola quindi come dire cioè come quando mi chiedete quali sono le traduzioni migliori il discorso su qual è la traduzione migliore lo puoi fare se conosci la lingua di partenza se hai letto l'originale altrimenti puoi dare una sensazione un'opinione un sentito dire ecco così puoi basarti su quello che dicono gli esperti ecco proprio di questo e infine la variante di Lunenberg anche questa è un libro che si trova parecchio all'usato costava un euro l'edizione un po' stracciatina vabbè pazienza mi attira il fatto che sia una lettura breve thriller centrano gli scacchi infatti è diciamo lui è un autore italiano è modellato completamente questo racconto è modellato completamente su novella degli scacchi di Steven Zweig si dice Zweig comunque l'autore svizzero ecco vediamo sinceramente questo avrei potuto anche non comprarlo ma chissà che cosa forse costava 50 centesimi chi può dirlo ragazzi con la fiction abbiamo finito incredibile stavo sudando adesso mi recupero i vostri commenti dove hai preso i libri Libraccio stiamo parlando di Libraccio non guardo la shot da un po' scusatemi ma grazie ragazzi ciao io ti seguo su youtube da una vita niente ti volevo dire che fai un lavoro straordinario che i tuoi podcast sono eccezionali dovrebbero essere introdotti nei percorsi di formazione scolastica allora non credo in formazione scolastica però mi fa piacere se li ascoltate in tanti a proposito siete tranquilli non mi sono dimenticata arrivano le nuove due puntate sia di Inside Books sia di Manalingua semplicemente l'analisi di Madame Bovary mi ha un po' rallentato perché c'era un gran lavoro da fare sia per quanto riguarda la scrittura sia per quanto riguarda la produzione proprio dell'episodio il montaggio eccetera eccetera quindi mi ha un po' drenata per cui maggio è stato un po' scarico dal punto di vista dei podcast ma recuperiamo poi lo sapete che ormai non voglio mettermi delle tempistiche troppo serrate perché preferisco fare un lavoro più accurato più approfondito piuttosto che uscire così tanto per tanto comunque preferisco che le cose siano curate piuttosto che la costanza è importante ma con una dilatazione temporale di cui beneficiamo tutti perché voi siete sommersi dai contenuti non avete bisogno di due miliardi di contenuti al mese io nel frattempo lavoro meglio e sono anche più più serena più tranquilla anche nel variare portarvi anche i video le live eccetera eccetera quindi diversificare ce l'ho anch'io quell'edizione esatto no ragazzi voi siete comunque dei veterani perché questa ragazza mi dice ce l'ho anch'io quell'edizione lo comprai perché mi ero recuperata i tuoi video vecchi ed eri innamorata di Tristano sì e tra l'altro io l'edizione di Tristano che mostro in quel video vecchissimo che ovviamente non mi ricordo neanche qual era però insomma stavo mostrando dei probabilmente forse era il video una bara di libri cioè comunque 100.000 anni fa una copertina marmorizzata ecco quando voi vedete le copertine marmorizzate sapete che state parlando di libri che sono usciti negli anni 50 negli anni 60 e sono terribili quindi qua stiamo parlando di qualcuno che fedelmente si è andato a recuperare tutti i i video vecchi e ovviamente quell'edizione lì è rimasta in Sicilia perché io in Sicilia ragazzi ho un reparto della libreria dedicato solo ed esclusivamente ai classici trash ovviamente non classici trash classici in edizioni trash e quindi c'è tutto un compartimento della libreria che è veramente ricchissimo di perle veramente ricchissimo e c'è anche la copertina marmorizzata di Tristano di Thomas Mann ecco altre persone che fanno binge watching dei miei video però di solito il binge watching lo fate con i libri di Melma che ci sta alla grande anche io ogni tanto devo confessarvi la verità quando sono un po' triste mi vado a mi vado a rivedere un libro di Melma però chi se li fa anche dei video non di me dei libri dei video che non sono dedicate ai libri di Melma chapeau i libri fisici nella libreria appena li vedi ti ricordano le sensazioni che hai provato nel leggerle come se manassero laurea delle tue emozioni sì vero ma io proprio credo anche nel fatto proprio di aprirli ecco perché sottolineo i libri perché spesso sottolinearli mi porta poi a fare delle riflessioni su quello che ha sottolineato post sia post lettura proprio nell'immediato per aiutarmi a scegliere insomma scusatemi per aiutarmi a fare la recensione sia poi proprio anche dopo anni e anni e anni ecco a proposito i troppi libri che girano all'usato quelli dell'alliende eh sì però c'è da dire anche che queste sono anche scrittrici parecchio prolifiche cioè a volte non saprei dire se è perché appunto le persone la leggono e poi la danno via oppure è perché hanno scritto talmente tanto e soprattutto hanno stampato talmente tanti libri perché per esempio Isabella Allende ci sta a fare degli errori di valutazione in fase di eh tiratura delle copie perché è una scrittrice che vende tanto ma scrivendo anche molto spesso non sai mai se quel libro poi effettivamente venderà tutte le copie che avevi preventivato quindi tendenzialmente a volte le case editrici sovrastimano per gli autori grossi mi rassicurate comunque su tanti titoli che ho comprato un po' così sull'onda del del recupero retro quindi il diario di Jane Somers eccetera eccetera quindi bene bene non ho preso troppe cantonate ecco per esempio a me fanno arrabbiare quando arrivano i lettori dell'ultimo minuto che hanno scoperto l'acqua calda con scrittori che conosco da tutta la vita e vengono a parlarmene estaticamente e orgogliosamente come se avessero scoperto la scienza suprema e cercano di convertirmi come testimoni di Geova alla loro grande rivelazione e lo so però alla fine ci sta se ci pensi perché se una persona un autore un libro lo ha scoperto dopo cioè nessuno nasce imparato diciamo così con Lessing preparati a soffrire perfetto ma io sono pronta cioè ragazzi chi mi avete preso cioè io leggo solo libri che fanno soffrire devastanti addirittura della Lessing ho amato particolarmente il quinto figlio sì ma l'hai scritto veramente tanto qualcun altro suggerisce anche le nonne per me è stata una doccia d'acqua fredda Doris Lessing ma in senso positivo perché poi scrivi che è bellissimo quindi immagini in senso positivo a volte non è chiaro perché a volte noi usiamo certi termini per descrivere i libri tipo scioccante devastante che in altri contesti potrebbero suggerire il fatto che il libro sia orribile invece no è positivo tra l'altro piccola parentesi della malalingua in catanese si usa spesso più che catanese non è in dialetto è un regionalismo comunque nella zona del catanese si usa l'aggettivo bestiale bestiale ovviamente voi cosa pensate pensate a qualcosa di ferino qualcosa di talmente brutto da essere talmente violento e gretto da essere associato agli animali alle bestie invece bestiale vuol dire semplicemente fighissimo oppure incredibile ecco la traduzione corretta è incredibile perché si può usare sia per cose belle quindi bestiale cioè pazzesco incredibile appunto vabbè me lo sono giocato un po' male comunque si può usare sia per intendere qualcosa di bellissimo bestiale cioè una cosa proprio esagerata sia per intendere qualcosa di che non ci puoi credere no? cioè qualcosa di assurdo bestiale capito? benissimo chiusa questa parentesi della malalingua rinascimento privato l'avevo letto a liscia tipo 15 anni fa a 15 anni devo dire che probabilmente non avevo colto tutto ma mi ricordo che avevo comunque apprezzato molto ah beh perfetto la belloncia è un registro stupendo adorata comunque posso dire che siete sempre sul pezzo perché alla fine noi spaziamo molto tra i generi tra gli autori le autrici spaziamo anche molto con i tempi cioè non leggiamo solo letteratura contemporanea leggiamo molti classici e voi siete comunque sempre pronti cioè come fate? Ada o Ardore in wishlist da circa sette è difficilissimo ragazzi di pronunciare il titolo di Ada o Ardore se ci provate a dirlo due volte consecutiva è un incubo Ada o Ardore Ada o Ardore in wishlist da circa sette anni ancora non acquistato aiuto ma comunque è un libroncino cioè nel senso io ho avuto una fortuna sfacciata poi comunque quando trovo una Bokov di solito lo prendo cioè se c'è una Bokov all'usato di solito lo prendo peraltro per essere uno dei miei autori preferiti non è veramente molto poco di suo in libreria e questo mi rode Mo è meraviglioso ecco perché poi adesso metto in evidenza un commento così vedete com'è scritto perché si scrive così ma si legge cioè gli scioglilingua veramente non so per quale regola ma probabilmente per l'inglese perché l'inglese è una lingua matta e non si non si pronuncia come scritto ma si pronuncia Mo con un suono gutturale anche un po' che però non so fare quindi ve lo beccate così tipo tipo mucca che mugisce mi è stato regalato da poco schiavo d'amore che pare essere il suo più autobiografico e il più lungo perché noi sempre amanti dei big books devo dire la verità io non ce la faccio più a leggere autobiografie devo uscire un attimo da questo terreno di gioco esatto un autore molto cinico Mo sapevo che sapevo cioè so a cosa sto andando incontro ecco vabbè certi commenti non li leggo ma sappiate che mi sono vicina e mi capisco perché hanno lasciato Eugenio Onegin ma che senso ah perché non hanno messo Evgeni ah non lo so questo dobbiamo chiederglielo forse perché a volte meglio vabbè a parte che la traduzione dovrebbe essere vecchia quindi probabilmente l'hanno lasciato hanno lasciato originale arriverà qualche libro di Melma raga no cioè i libri di Melma arrivano per le festività comandate lo sapete benissimo ah comunque si usa anche in Puglia è bestiale intendo la parentesima alla lingua vi accende sempre anche a Palermo vabbè Sicilia poi devo dire che secondo me sono stati i siciliani soprattutto i siciliani che si sono impossessati del territorio nazionale che sono sempre in giro non ci sono più siciliani in Sicilia sono tutti nel resto d'Italia e all'estero quindi benissimo siamo pronti per passare alla saggistica del libraccio e poi ad alcuni libri nuovi che ho preso al salone e devo dire sono molto gasata anzi sapete cosa vi dico la saggistica la lasciamo per ultima dopo la saggistica usata vi faccio vedere alcune cose su cui ho grande hype devo dire allora EO mi ha venduto proprio me l'hanno regalato e venduto questo libro di Matsuda Aoko perdonatemi la pronuncia giapponese che bella la copertina scusatemi poi voi non la vedete benissimo ma tutta una trama particolare ecco adesso la vedete meglio nel paese delle donne selvagge che è una raccolta di racconti che mi ha subito ricordato Cat Person perché anche qui c'è un twist cioè sono dei racconti che si ispirano al folklore giapponese in particolare il folklore che ha a che fare con il sopranaturale le creature fantastiche i fantasmi del Giappone eccetera eccetera e adattandole a storie di donne della contemporaneità quindi l'elemento fantastico che erompe nel quotidiano secondo me da come me l'hanno venduto è una figata poi ovviamente dipende come è fatto c'è una componente di non voglio dire non è una componente di violenza però c'è una componente di audacità ecco nel modo in cui sono raccontati i temi cioè non è la classica letteratura giapponese un po' più quieta mite ecco a cui io personalmente non sono abituata perché un'altra friscia giapponese che ho letto recentemente è la Kirino che decisamente è molto lontana dalla pacatezza per quanto riguarda temi e il modo di scrivere no rimangono sempre molto concisi e puliti i giapponesi come scrivono però in quanto a temi non si può certo dire che non osi e questo dovrebbe essere più vicino ecco a la Kirino per dirvi che ha una banana Yoshimoto bene mi ero segnata anche una cosa su il blur ah ecco il blur è stato molto prestato da Carmen Maria Maciado e questo per me è sinonimo di garanzia al momento più che altro per la padronanza di certi elementi come l'elemento fantastico tra l'altro credo che sia perché ho visto che oggi sui social l'edizione io avevo tipo messo qualcosa che incrociavano le dita forse è candidato a qualche premio non lo so non mi ricordo non vorrei dire cretinate quindi andiamo avanti move on allora uno che sinceramente non cioè l'avevo sottovalutato molto quando uscì probabilmente perché avevo già un sentore su su chi fosse l'autrice sebbene io non abbia mai letto nulla di suo però un po' secondo me ci sono dei momenti in cui sei talmente famoso come autore in questo caso come autrice che qualsiasi cosa pubblichi passerà sempre in secondo piano rispetto al tuo nome quindi quando esce un libro nuovo cioè non so se capita anche a voi però se esce un libro nuovo di Filippo vabbè ovviamente adesso non è possibile mi hai fatto pensare al fatto che Filippo si è morto vabbè se adesso esce un libro nuovo di Paul Oster per dirvi non è che vada a leggermi la trama cioè semplicemente me lo compro cioè non c'è bisogno che mi dite che cosa parla cioè me lo compro ecco un po' è la stessa cosa con questi autori e con queste autrici che magari tra l'altro neanche li conosci cioè non hai manco mai letto niente ma siccome sono dei nomi abbastanza altisonanti nel circoletto di lettori perché ricordiamo che stiamo parlando sempre della nicchia della nicchia della nicchia al che non ti non ti informi neanche su sulle tematiche del nuovo libro stiamo parlando di Yasmina Reza che è più una drammaturga più che una romanziera però questo dovrebbe essere un romanzo Serge ed è indovinate un romanzo familiare e parla in particolare di tre fratelli e in particolare si prende il punto di vista cioè o meglio viene raccontato ci si concentra di più su Serge che è il classico personaggio bigger than life è considerato così un cialtrone inconcludente superstizioso scorbutico scorretissimo fragile seducente e devo dire poi che a Def ha una un modo di venderti romanzi favoloso perché non c'è mai la trama ok nella sua crudezza no ci sono sempre frasi super evocative ci avete mai fatto caso cioè tutti i libri di Adelphi non hanno mai raccontata la trama nei loro nei risvolti sul retro nella quarta cioè niente mai c'è sempre qualche frase super enigmatica ecco in questo caso però voglio leggervelo perché è veramente bello come è scritto i legami fraterni perché appunto è la storia di questi tre fratelli si sfidacciano si disperdono finiscono per non ridursi ad altro che a un sottile nastrino di sentimenti o conformismo so bene che Serge e Nana appartengono da tempo all'umanità matura come si presume che vi appartenga io stesso ma è una percezione superficiale nel profondo io sono sempre quello di mezzo Nana è sempre la cocca di mamma e la cocca di mamma e papà la smorfiosetta ma anche il vice nei nostri giochi di guerra lo schiavo il prigioniero giapponese il traditore che viene pugnalato in camera nostra non era mai una bambina ma un caporale o un martire mio fratello è sempre invece il primo genito il condottiero con il sottogola dell'elmetto penzoloni e un sorriso in grado di esorcizzare la morte è lo spericolato il Dana Andrews io sono il gregario il senza personalità quello che dice rosso quando il primo genito dice rosso ma raga ma quanto è bello comunque è vera questa cosa sui familiari cioè io penso ai miei cugini a mio fratello sì è vero che siamo grandi che siamo cresciuti ma per me non sono mai le persone che sono adesso sono sempre le persone che sono state in passato nell'infanzia cioè forse è vero che come dice Zero Calcare non guarriamo mai dalla nostra infanzia che vi devo dire vabbè sempre a Delphi devo dire che l'ufficio stampa ti coccola molto al salone del libro mi hanno detto dai scegli prendi quello che ti pare e io ho preso un libro su cui Giulie mi fa una testa da tanto tempo ovvero La vita immortale di Henrietta Lacks che in realtà dovrebbe essere cioè è un questo ve lo leggo perché non vorrei dire cretinate visto che c'è del materiale scientifico quindi non voglio non voglio dire fischi per fiaschi però di base è il romanzo cioè una storia stavo per dire la storia di una storia vera il romanzo di una storia vera se non ho capito male se è un romanzo perché ormai non si capisce mai più nulla cioè non si capisce mai che cos'è un romanzo cos'è un saggio cos'è non fiction cioè non si capisce più niente però quello che è certo è questo allora in campo biomedico c'è una sigla che probabilmente avete già sentito ed è la sigla Ela che la sigla Ela non è altro che la cioè praticamente le iniziali del nome Henrietta Lacks queste la ricerca su queste cellule è particolarmente importante perché in sostanza sono sopravvissute alla persona da cui provengono cioè questa Henrietta Lacks che in realtà era una persona in Carradossa lavorava nei campi di tabacco della Virginia e morì di tumore nel 1951 senza chiederle ovviamente il consenso gli scienziati hanno raccolto un campione dei suoi tessuti e poi questi sono diventati questa è la storia insomma di come la medicina abbia fatto passi da no passi da gigante non lo so comunque insomma si è fatta molta ricerca in ambito biomedico proprio su queste cellule che provengono dal suo corpo quindi è un po' sia una storia che ricalca un po' tutto il fermento scientifico attorno a questa scoperta dall'altro lato però anche una storia di profonda ingiustizia visto che ovviamente la cosa fu commercializzata ovviamente Henrietta Lacks già era morta ma anche i suoi familiari non ebbero nulla per molto tempo comunque Giulia ha detto che è stupendo e quindi io mi sono avventata vedremo infine per la fiction mi hanno venduto anche questa scrittrice era al salone del libro elegantissima bellissima molto affascinante questa è l'ennesima storia familiare però anche qui riprendendo tutti i discorsi che abbiamo fatto anche prima in sostanza questa è una una storia che si basa su un'indagine archivistica un'indagine documentaristica perché in sostanza parte da questa cartolina questa cartolina che cela importanti segreti di famiglia perché a un certo punto a questa a questa scrittrice arriva in casa una cartolina destinata alla madre in cui ci sono i nomi dei suoi dei suoi nonni tutti di suoi nonni e di altri suoi familiari morti ad Auschwitz deportati ad Auschwitz la madre anzi la nonna era sfuggita alla deportazione non si sa come quindi l'autrice a partire da questa cartolina cioè questa è una cosa realmente successa ecco recupera tutta la storia dei suoi dei suoi progenitori ovviamente arriverà a delle conclusioni non lo sappiamo perché ripeto questo non è un romanzo questa è la sua storia quindi non sappiamo se lei è riuscita a sapere che questo è successo immagino di sì perché comunque per essere un libro piuttosto corposo sarà giunta delle conclusioni e ovviamente mi interessa perché mi sto ovviamente appassionando a tutto questo discorso della genealogia come si lega allo studio proprio dei documenti dell'archivio dei memoir dei diari di famiglia delle memorie di famiglia eccetera eccetera cioè io penso che la saga familiare si stia veramente evolvendo e si stia proprio andando ad infilare in queste intercapedini dove ci si incontra anche proprio con la non fiction proprio cioè proprio il saggio quasi quindi insomma sono un po' irretita da questo tipo di narrazioni bene 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 vabbè quelli che ho preso al salone del libro raga non ve li faccio cioè vi faccio vedere solo quelli che non conoscete già perché ne avevamo parlato in live io ero andata al salone del libro per prendere Un uomo che dorme di George Perrec e vi voglio soltanto leggere un pezzo del libro sono veramente tre righe resistete però ne vale la pena vi ricordate che io avevo associato questo libro a Bartheby lo scrivano di Melville perché anche lì il protagonista era un uomo che si rifiutava di vivere in società cioè a un certo punto lui è caduto in questa sorta di apatia inedia e rifiuto ecco di vivere secondo i dettami della funzionalità che la società impone ecco un po' un uomo che dorme parla di questo cioè un studente universitario che a un certo punto decide di non voler dare gli esami di non voler fare più nulla e semplicemente di attendere però guardate come viene descritto hai 25 anni e 29 denti 3 camicie 8 calzini qualche libro che non leggi più e qualche disco che non ascolti più sei seduto e vuoi soltanto aspettare si preannuncia meraviglioso poi ne avete parlato anche voi un uomo che dorme mi ha ricordato la nausea di Sartre ecco sì anche quello ci sta il nesso a Bartheby anche se qui scendiamo proprio nella psiche capiamo le ragioni ecco invece Bartheby era più un simbolo diciamo comunque andate sul canale del Sussurro del Mondo che ne ha parlato poi 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 questo ve l'ho già fatto vedere 3000 volte mi rompo a farvelo rivedere e quindi a questo punto andiamo direttamente sulla saggistica così mi fa da ponte per l'ordine di braccio così concludiamo l'ordine di braccio però prima appunto al salone c'erano degli sconti ragguardevoli sia da Meltemi che faceva il 3x2 poi lasciamo perdere che io col 3x2 mi sono comprata il libro che già avevo quindi il 3x2 si è annullato praticamente però cioè quando uno è intelligente quando una persona è intelligente e poi invece anche codice mi ha regalato dei libri quindi insomma sono stata irretita dagli altri dai professionisti dell'editoria non è colpa mia allora andrò velocissima Meltemi è una casa editrice che vi consiglio tantissimo di spulciare a una prospettiva molto come dire all'avanguardia per quanto riguarda il pensiero antropologico sociologico non ha paura di pubblicare anche autori al di fuori insomma del canone quindi ve la consiglio sono famosi anche per il catalogo di filosofia ma io non me ne intendo di filosofia e sono più sulla parte sociologica appunto antropologia semplicemente il titolo del libro Tim Ingold è un professore da 20 anni insegna antropologia sociale e questo è appunto un libro di antropologia dal punto di vista più ecologista e appunto contro le disuguaglianze quindi dal punto di vista della giustizia sociale ecco questa prospettiva qua stessa prospettiva più o meno quella di innanzitutto una pensatrice fondamentale per il femminismo soprattutto la la più recente correnza del femminismo e per il femminismo trans buonanotte intersezionale ce l'ho fatta stiamo parlando di Belux che infatti il titolo del libro già dice tutto perché insegnare a trasgredire fa il paio con Belux Raquelle Borghi che è una professoressa di geografia alla Sorbona di Parigi e insegna geografia perché lei si occupa molto di territorio tant'è vero che questo libro parte da tutta quella che è tutto quello che è il pensiero postcoloniale e cerca di adattarlo quindi quello che abbiamo ereditato dal colonialismo ai noi e cerca di adattarlo a quello che sono gli spazi e gli spazi che abitiamo e quindi le pratiche femministe che dobbiamo adottare sono due saggi apprezzo anche molto il fatto che si parlino in qualche modo perché alla fine sono tutti quanti uguali praticamente cambiano solo i colori e si riprendono tra l'altro volevo dirvi che Raffaele Borghi deve molto a Belux del suo pensiero tant'è vero che è proprio la prima cosa che leggiamo su decolonialità e privilegio è proprio una citazione di Belux scusate se biascico ma si è fatta una scelta e comincia a biascicare poi da codice vi avevo già detto che avrei preso Il mare in cui nuotiamo di Frank Rose che è lo stesso autore che ha scritto Immersi nelle storie che è un saggio che parla del fatto che oggi tutto è contenuto e navighiamo nei contenuti ecco questo libro è un po' il seguito parla del fatto che al momento le persone credono molto più siamo nell'epoca della post verità le persone tendono a credere di più alle storie piuttosto che ai dati alle narrazioni piuttosto che ai fatti è anche un po' difficile discernere i fatti dalle opinioni in questo momento storico in cui siamo veramente sommersi dai contenuti dalle informazioni e quindi lui parla di come dominare e di come non dominare di come governare le narrazioni e quindi distinguere quelle che sono le narrazioni costruttive e quelle che invece sono narrazioni qualunquiste manipolatorie come possono essere quelle delle delle destre che stanno esercitando sui social network le fake news eccetera eccetera pensate soltanto alle narrazioni che ha fatto Trump del mondo sui social e di quello che è successo poi di come siano state manipolate le informazioni che hanno portato a dei risultati elettorali che magari non ci sarebbero stati altrimenti senza campagne mirate alla decostruzione oppure ancora peggio alla costruzione di certi significati di certi sovrasignificati più o meno c'entra segue più o meno lo stesso filone un libro che non avevo intenzione di prendere la scienza dello storytelling di Will Storr che è a metà strada tra manuale e scientifico perché comunque si parla molto di neuroscienza e psicologia e dall'altro lato però anche proprio un saggio sulla contemporaneità sull'importanza delle storie per noi oggi nel presente quindi ti spiega che cosa succede cioè perché l'uomo è così attaccato alla sua capacità di raccontare storie perché raccontare storie è un po' la cornice attraverso cui interpretiamo il mondo quindi è un po' questo il senso di questo saggio e ne ho sentito parlare dappertutto recentemente poi ho partecipato ad una masterclass in narratologia di Marina Pierri che vi consiglio di seguire se non la conoscete se non la seguite sui social e lei ha messo questo link questo libro come fonte quindi sono stata felice di questo di questa coincidenza pazzesca poi vabbè ho preso Riaffiorano le terre inabissate ma ve ne avevo già parlato in lungo e largo questo libro enigmatico misterioso che si incrocia con la fantascienza eccetera eccetera e infine sempre da codice in questa Londra post Brexit bla 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 ne abbiamo parlato veramente tantissimo e poi ho preso anche il premio Pulitzer di quest'anno Joshua Cohen a settembre arriva effettivamente il romanzo con cui ha vinto il Pulitzer ma nel frattempo mi leggo il libro dei numeri che ha molto a che fare con la cultura digitale come potete vedere anche dalla copertina che è splendida questa è anche un po' colpa di Marco che tra l'altro recentemente ha fatto una live che devo recuperare visto che l'ha caricata se non sbaglio oggi su Leonard Cohen quindi me la guarderò devo dire la verità l'ho un po' snobbato eh lui perché pensavo che fosse ah un altro scrittore ebreo americano sì ho avuto questo pensiero devo dire la verità però subito ricreduta pentita e ho comprato il libro dopodiché adesso vi faccio vedere solo saggi noiosissimi che ho preso tutti usati sul libraccio ok dove ho preso la poltrona di atrodite Ikea prima di farveli vedere però recupero un po' di commenti io di Adelphi comprerei tutto il catalogo completo seduta stante tutto questo mi sta facendo pensare al fatto che oggi una ragazza su Instagram mi ha linkato una una ragazza su Vinted il profilo di una ragazza su Vinted che vendeva tutti i libri di Amelino Tomb tutti a 200 euro tra l'altro io francamente non sono molto interessata semplicemente per un motivo che le edizioni di Voland non sono proprio stupende quindi cioè io sono felice così di leggermi l'Anotomb un po' in audiolibro un po' ogni tanto sì ho qualche libro suo però a posto così come dire si vive si vive bene neanche senza del Rosso e il Nero mi mancano 100 pagine ma se non fosse perché mi interessa la tua analisi l'avrei abbandonato visto che siete un po' il pubblico si divide molto sul Rosso e il Nero che è il libro che stiamo leggendo per i mattoni francesi di maggio e giugno vedo che siete molto divisi ma ci sta comunque è un libro che ha il suo tempo poi bisogna anche capire la tempi cioè io apposta do due mesi do due mesi perché vi deve un po' chiamare ecco i mattoni francesi non sono sempre super agili come il conte di Monte Cristo dobbiamo sfatare dovevo sfatare questo mito dovevo sfatare questo mito bene iniziamo a fare questa carrellata ma veramente sarò non rapidissima di più di più sui saggi poi chiudiamo perché siamo da più di un'ora in live ok quindi c'è della difficoltà allora prima di tutto volevo prendere qualcosa di Marina Polacco che è una critica letteraria ha molto cioè io già la conoscevo perché ha scritto abbastanza su Pirandello che è un autore che io conosco bene dai miei anni universitari poi sendo siciliana figuriamoci anche al liceo ma ha scritto anche molto sul romanzo familiare e come vi ho già detto prima avendo preparato la masterclass ho un po' studiato i suoi testi e ho visto che sul libraccio c'era questo libricino piccolissimo che parla di un concetto per me fondamentale che è l'intertestualità presente quello che faccio ogni giorno alla fine tutti i libri sono connessi fra di loro e vabbè è un libricino piccolino non è che mi aspetto chissà cosa poi è costato pochissimo quindi adesso vedrete tutta una serie di libri piccoli che ho comprato più per gli autori o per il tema per la casa editrice diciamo più che perché sono dei pilastri ecco a livello saggistico ho preso storia della globalizzazione questo anche l'ho già letto ed è quello che promette di essere questo l'ho letto per un corso perché ovviamente cosa succede quando sei un studente universitario hai le dispense e quindi ogni tanto è bello avere anche dei libri quando te lo puoi permettere cioè adesso fortunatamente posso permettermi di comprare i libri quando ero studente su universitaria no io invece il rosso e il nero lo sto amando e non gli avrei non gli avrei dato davvero due centesimi infatti io lo faccio per questo perché uno su no anzi no dai metta è sempre 50% 50 e 50 il mattone francese nel senso che può andar bene al massimo se non va bene comunque è una lettura interessante ecco quindi io sono io sono per il provarci ecco anche perché spesso con i classici il punto è che ti possono solo stupire perché già parti col presupposto che sono pesantissimi invece se inizi a leggere e vedi che non lo sono sei stupito sei felice se invece non ti piacciono alla fine non puoi non puoi rimanere deluso perché già lo sai che potresti potrebbero essere un pochino noiosi cosa leggerete dopo il rosso e il nero così mi unisco a voi sei sicuro perché non so se mi sbaglio ma dopo il rosso e il nero mi sa che ci sono i miserabili però lì secondo me non possono non piacere al massimo potete essere impauriti dalla mole ma non esiste che non vi piacciono i miserabili cioè io diserto se non vi piacciono i miserabili vabbè dopodiché molto velocemente ho preso un po' di libri di sociologia alcuni non li ho letti altri invece ne ho letti solo una parte perché altra grande pratica universitaria è quella di leggere solo i pezzi dei libri e non tutti i libri e ho preso allora uno che è veramente abbastanza un classicone ed è sociologia della cultura di De Benedetti se studiate sociologia questo libro questo di La Terza lo conoscete molto bene poi ho preso sociologia della famiglia sempre per il fatto che sono ormai in totale mood studiamo come si è evoluto il concetto di famiglia e le narrazioni familiari questo è abbastanza citato considerate anche nella critica letteraria perché soprattutto in l'ho sentito molto citare in alcune analisi su Elena Ferrante perché appunto i romanzi familiari per forza si interrogano su concetti sociologici soprattutto storici come soprattutto su istituti storici come la famiglia sto veramente miascicando magari bevo un po' d'acqua cioè non c'entra niente ma sto leggendo umiliati offesi da Stoias che avevo sentito e letto solo pareri negativi io invece lo sto amando mi mancano pochissime pagine devo dire modestissima opinione meglio ma molto molto meglio dell'idiota allora io neanche devo dire impazzisco per l'idiota di dosso preferisco veramente altri romanzi quindi ti do manforte però in particolare umiliati offesi io non l'ho letto quindi non saprei nirti non saprei darti soddisfazione poi ho preso sociologia nell'era della comunicazione nell'era digitale quindi ho preso sociologia della comunicazione sociologia della famiglia sociologia della cultura cioè tutte le sociologie del mondo e poi introduzione alla storia del pensiero sociologico anche questo sicuro qualche studente universitario qualche studente universitario sicuro si starà mettendo a ridere perché questo è veramente dappertutto di Carocci che è un'altra classe editrice proprio classico universitario poi ho preso ad un prezzo veramente ridicolo due libri su l'Europa e in particolare ho preso storia dell'Europa scusatemi Europa storia di un'idea e di un'identità abbastanza famosino se fate scienze politiche e la società europea che invece ho preso semplicemente perché volevo fare il paio e costava molto molto poco di letteratura invece ho preso anche qui ad un prezzo abbastanza osceno la letteratura e il male di Bataille scusatemi la pronuncia ma io veramente non è difficile per me si parla di autori che conosciamo in particolare William Blake Sade Proust Kafka Michelet Genet Emily Bronte e Baudelaire vabbè ovviamente non poteva esserci Baudelaire vediamo è un saggio comunque c'è critica letteraria ma fino a un certo punto soprattutto quando la fanno certi autori non sono testi tecnici ok poi manuale di letteratura italiana contemporanea Casa Dei Sant'Agata questo è un mio grande cavallo di battaglia però non ce l'avevo fisicamente intero quindi era una cosa importante da avere non sono indispensabili assolutamente i manuali di letteratura ma proprio per niente quindi se tranquilli non vi sentite in dovere di prenderli perché spesso non sono utili ve lo dico però a volte è importante avere dei libri che facciano un po' ordine mentale per esempio per capire se un autore viene prima se un autore viene dopo le influenze eccetera eccetera cioè quando fai il mio lavoro che comunque è mettere in contatto tanti testi e tanti autori di tante epoche eccetera eccetera è meglio avere un ordine mentale che spesso io non ho infatti spesso nelle live magari faccio degli strafalcioni oppure nei video magari dico delle cose sbagliate cioè onde ridurre al minimo questi errori è giusto riprendere anche un po' il filo dello studio dei discorsi sulla letteratura eccetera eccetera perché poi passa il tempo magari sono tutte cose che sai che hai introiettato ma che ti sei dimenticato ci sono nozioni che ovviamente si dimenticano casa dei Sant'Agata unica certezza a lettere io avevo anche Luperini Romano Luperini è una grande certezza della critica letteraria italiana vogliamo dirlo e soprattutto degli studenti universitari di lettere bene ragazzi la live è durata oltre un'ora e un quarto quindi siamo veramente abbiamo sforato come ci suol dire poi mi viene da ridere perché invece i streamer fanno live lunghe due ore tre ore quattro ore cinque ore di solito ma io non glia faccio cioè io non so che cosa si prendono Red Bull droghe varie non lo so però io sono già prosciugata magari prossima volta invito qualche o ospite così si anima un po' di più la live e soprattutto non devo parlare solo io devo riorganizzare il paliziasso di Twitch in modo da portare gente portare ospiti portare guest star che ci servono ci servono assolutamente devo farvi vedere anche questa graphic novel di Daniel Quello che non si pronuncia così però anche qui non lo so dire ho degli evidenti limiti ma non dovuti alla non conoscenza ma dovuti al fatto che non so più articolare i suoni arrivati a questo punto della live ed è un po' come i suoi precedenti si parla sempre di questo gruppetto quello che ho letto ieri era sul condominio geniale poi ha un tratto unico veramente di disegno ne parliamo comunque poi quando lo leggo credo a brevissimo tra l'altro dovrebbe esserci la presentazione a Milano forse vado il 31 bene ragazzi scusatemi mi sono persa come al solito vi ricordo che ci sarà una nuova live domenica domenica sera sempre se non ci sciogliamo dal caldo prima e poi ci ci vediamo poi con il consueto video del martedì su youtube invece ok quindi gli appuntamenti sono tutti confermati al momento detto ciò io vi auguro una buona serata dai che domani è venerdì questo orario mi sembra funzionare molto bene e anche la giornata del giovedì mi sembra funzionare molto bene per cui insisteremo insisteremo su questo su questo giorno vediamo poi come al solito la live intrasettimanale ogni tanto c'è ogni tanto non c'è sempre un po' a sentimento ecco dipende dal mal di testa bene è veramente tutto un bacione a voi e la vostra mamma io e la mia caterva di libri vi ringraziamo per la compagnia e vi auguriamo una buona serata ciao ciao